allora buonasera io avrei dovuto cuocere queste teglie a mezzogiorno ma ho avuto il bambino che non stava bene sono stata in giro poi e quindi le cuocio adesso non so non so allora adesso andiamo a scoprire insieme cosa c'è allora la semola apriamo e rovesciamo è bello calma no perché c'è voglio dire eccole abbiamo una situazione che va beh allora ho paura niente sigilliamo i bordi come al solito e poi voglio farvi vedere meglio non è che posso neanche tanto stare ok allora io vado dall'esterno pianino 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 poi lo giro pensavo peggio insomma non è andato neanche tanto male poverino ok ora non stiamo lì tanto perché poverino diciamo che già ha subito quello che doveva subire allora aspettate che cerco di girare ok bom mettiamo si vede questa la facciamo in bianco e l'altra invece la facciamo col pomi eccoci ho ascoltato sta canzone adesso continuo a cantarla ok buon allora se diciamo che dovevo stendere un po meglio ma è già tanto che sono riuscita a stenderla così perché l'orina proprio l'ho abbandonata al suo destino allora io non metto neanche sale sopra perché mi piace in sé ok sì ok sono molto brava di farmi guardare qui adesso la metto in forno di casa grazie